100% la cura Farsi è pura panacea per il Trestina che nella 25esima giornata del girone E di Serie D espugna 2-1 il campo del Terra Nuova Traiana conquistando la seconda vittoria filata da quando in panchina c'è l'ex tecnico del Cannara. Al Matteini di Terra Nuova Bracciolini sono gli Aretini a passare al 14esimo con il mancino di Farini che sbatte sul palo e termina poi alle spalle di Pexoto. Passano 6 minuti e da corner di Belli Cenerini incorna sul primo palo e ristabilisce la parità con cui si chiude anche la prima frazione. Un equilibrio che permane sino a 15 minuti dalla fine quando su iniziativa di Dinolfo da poco subentrata Belli l'estremo difensore della compagine toscana Antonelli devia senza sventare il pericolo e Gramaccia da due passi in sacchi gol partita. Trestina a quota 27 in quart'ultima piazza a tre punti dalla quota salvezza e nel prossimo turno c'è lo scontro casalingo con la Flaminia. Crolla l'Orvietana 3 a 0 a San Giovanni Valdarno con ultimo posto in classifica quota 23 confermato per i ragazzi di Fiorucci che nella prossima giornata ospiteranno Grosseto. Mentre arriva un pesante passo falso anche per il città di Castello che nel giorno del ritorno in panchina di Gualtiero Macchi cede 3 a 1 al Bernicchi sotto i colpi del tau Alto Pascio. Dopo 12 minuti da corner di Capparella Gurini a centro area di testa porta avanti il tau. Nell'occasione il portiere genovese prende una brutta botte dopo vari minuti di stop viene portato via in ambulanza e rilevato da Guerri. Quindi al 39esimo da cross di Gurini Alessio solo soletto in area piccola pesca il raddoppio sempre di testa che chiosa anche il primo tempo. Ad inizio ripresa Pietrelli in buca per Alessio che elude il fuorigioco avanza sino a centro area e trafigge ancora Guerri per doppietta personale e 0-3 Alto Pascio. La rete tifernate di Calderini serve solo a snellire il divario sull'1-3 finale. I biancorossi restano a quota 30 e sono ora a soli 3 punti dalla zona play-out. Nel prossimo turno quasi derby in trasferta ad Arezzo per l'11 di Mister Macchi. Chiaramente ogni volta che si perde si cercano sempre le giustificazioni. Non è nel mio carattere però oggi veramente avevamo così tante defezioni soprattutto sul pacchetto difensivo che insomma l'abbiamo un pochino pagata a caro prezzo. Prendiamo di buono l'atteggiamento non la qualità del gioco che abbiamo avuto nel secondo tempo. Correggiamo qualcosa perché c'è da correggere qualcosa. Però ecco non fare i drammi perché visto anche il calendario che abbiamo che è un calendario abbastanza complicato e bisogna mantenere diciamo una lucidità mentale che ci permette anche di credere nelle nostre potenzialità. Quando recupereremo qualche giocatore fondamentale secondo me le cose andranno meglio. Grazie. Grazie.